Oh, la sta arrivando? Dove stanno arrivando? Sta la via con le mani. È probabile che il gruppo dei manifestanti che ha rischiato di essere investito dal blindato pochi istanti prima, cerchi di regolare i conti. Il blindato stesso è quello che gli sta accanto, però non riparte più. L'autista scappa, lasciando dentro i suoi compagni. A 50 metri di distanza, i carabinieri osservano l'assalto senza però prendere iniziative. Resisi conto che nessuno verrà ad aiutarli, i carabinieri che stanno dentro scappano. Il furgone viene assalito e dato alle fiamme. Grazie. 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 Grazie.